Allora, la danza che preferisco è una danza che va molto di moda adesso, io ho una maestra, io la definisco così, ma in realtà è un'amica che qualche volta mi dà qualche lezione insieme ad altre amiche, organizziamo questo gruppo, andiamo tutte quante insieme a ballare, in non so se si può dire, ma tipo twerk, insomma questi balli un po' divertenti, un po' latini che ti fanno sciogliere bene anche il corpo.